we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi patch 8.50 finalmente disponibile per l'aggiornamento di fortnite una patch ragazzi che prevede l'inserimento in battle royale della nuova modalità end game una ltm ragazzi dove dovremo unirci alla battaglia per le gemme dell'infinito combatti nei panni dei chitauri e di thanos oppure impugna gli oggetti degli avengers nella modalità end game ragazzi in poche parole ragazzi thanos e i suoi chitauri invadono l'isola della battaglia reale in cerca delle sei gemme dell'infinito in questa modalità una squadra di eroi affronta thanos e i suoi scagnozzi per impedirgli ovviamente di conquistare queste gemme entrambe le due squadre si generano fino all'eliminazione fino a che la fazione avversaria non completa il suo obiettivo da una parte c'è la squadra degli eroi che si rigenerano come vi ho appena detto e da gli eroi iniziano con una mappa del tesoro che conduce direttamente ad un oggetto mitico degli avengers quindi ragazzi tanta tanta roba gli altri oggetti degli avengers si possono trovare nei forzieri della mappa l'obiettivo della squadra degli eroi è di distruggere ovviamente l'esercito di chitauri e sconfiggere thanos la squadra di thanos invece è composta dagli invasori e da thanos stesso ritorna il nostro grande thanos ragazzi il primo dei chitauri che conquisterà una gemma dell'infinito verrà trasformato in thanos sappiamo tutti che thanos ha il pugno potente l'attacco laser distruttivo e la capacità di effettuare dei salti altissimi ma vediamo un attimo nel dettaglio le gemme ragazzi gemma della realtà quella rossa salute e scudi raddoppiati gemma dell'anima quella arancione assorbimento attivato conferisce a thanos solo gli scudi gemma della mente gialla raddoppia l'altezza dei salti gemma dello spazio quella blu triplica l'aria d'effetto dello schianto terrestre gemma del tempo quella verde una notevole respinta aggiunta ad ogni colpo danno triplicato e la gemma del potere quella viola danno laser s'è stuplicato vuol dire per sei se thanos viene eliminato dalla partita dopo breve tempo un altro dei chitauri diventerà lui se thanos e chitauri troveranno tutte e sei le gemme dell'infinito gli eroi non potranno più rigenerarsi l'obiettivo di thanos e del suo esercito è trovare le pietre ed eliminare gli eroi una figata incredibile questa nuova modalità che non vedo l'ora insieme a voi di provare andiamo a vedere invece per quello che riguarda armi e oggetti le correzioni dei bug e dei miglioramenti la funzione come avevo già detto quella tieni premuto per scambiare viene confermata al momento di rilasciare il pulsante usa in questo modo non avremo dei problemi a droppare delle armi che invece vogliamo tenere infatti questo preverrà gli scambi accidentali se un giocatore viene eliminato con un danno da caduta quando si trova in un veicolo il giocatore che ha danneggiato quel veicolo riceverà la kill in poche parole c'è uno che sta volando con la giro che è molto alto gliela distruggete vi dà la kill gli indicatori di colpo assegno sono reimpostati in questo modo ragazzi sono più comodi da vedere la collisione del furgone di riavvio non influenza più i veicoli in questo modo ragazzi c'era un bug che alcuni riuscivano ad andare contro il furgone di riavvio e si nascondevano proprio dentro non c'è più questa cosa ragazzi da adesso quando si esce da un veicolo l'animazione di equipaggiamento verrà sempre eseguita prima di poter sparare quindi ragazzi ci sta questo è per prevenire appunto i quick scoop e poi rientrare nel veicolo mi piace questa cosa i giocatori che subivano danno da caduta quando usavano un jet pack ovviamente nella modalità dove è presente dopo essere stati no aspetta hanno corretto il danno per cui i giocatori che utilizzavano un backpack prendevano danno dopo essere sparati da un cannone nella modalità per quello che riguarda ragazzi il gioco in sé hanno sistemato un problema che impediva di assegnare la giusta quantità di punti esperienza sopravvivenza dopo le partite quindi se vi risulta che avete fatto pochi punti in realtà è stato sistemato arrivano anche la arriva anche la fase numero 2 ragazzi delle competizioni il torneo del 27 e 28 aprile anzi settimana scusatemi numero 3 degli open fortnite world cup la modalità in singolo con il monte premi totale di un milione di dollari vi ricordo che dovete sempre raggiungere 300 punti in arena per poterci partecipare il primo round del 27 aprile i primi che passano se non ricordo male i primi 3000 vanno al round 2 quello del 28 aprile e migliorate anche le prestazioni ragazzi risolto un errore che causava rallentamenti significativi durante lo skydiving quindi tanta roba anche per questo aggiunto finalmente anche e aggiunta anche l'animazione dedicata alla possibilità di accarezzare gli animali in game così modifiche anche per quello che riguardano i file audio non si sentono più i suoni nel quad quando in realtà non c'è su nessuno non si sentono più suoni strani che non c'entravano niente nella mappa sistemato anche il problema che durante il replay non veniva mostrato quando ti curavi con mele e con banane nella versione mobile di fortnite invece un sacco di migliorie per rendere più efficienti il gameplay anche da chi utilizza un p30 pro un mate 20 o un mate 20x una sfilza di sistemazioni che vi invito ad andare a vedere nelle patch notes ufficiali del sito nella modalità creativa hanno aggiunto round di gioco gioca un round nuove impostazioni di gioco sono ora disponibili ad esempio la possibilità di aggiungere altri round andate a dare un'occhiata per informazioni migliori ragazzi arriva invece come prefabbricato per la creativa il nuovo vascello pirata quello in poche parole che c'è nel battle royale aggiunti due nuovi portali di isole in evidenza il centro ricreativa e parco giochi e hanno invece ridotto da 8 a 6 i portali dell'isola del giocatore nel centro creativo migliorie anche per quanto riguarda tutta la modalità creativa gli strumenti hanno aggiunto la modalità fase in poche parole quando sei in volo puoi attivare la modalità fase e attraversare gli oggetti e il terreno quindi ti permette di muoverti molto più velocemente hanno corretto un sacco di bug e allora prefabbricati aggiunte nave pirata galleria nave pirata sei prefabbricati per la baia dei pirati e galleria della baia dei pirati un botto ragazzi di sistemazione anche ai dispositivi nuove opzioni per il generatore di stormwing quindi di tempest hanno migliorato la soglia di salute con accelerazione con il colpo diretto la soglia di superamento della salute e per quanto riguarda invece l'interfaccia utente e social da adesso si possono visualizzare le classifiche di gioco premendo il pulsante mappa quando c'è una partita in corso figata usare l'opzione widget per visualizzare la mappa e scegliere tra classifica e mappa predefinita ragazzi su save the world arriva invece il lancia bowling l'avevamo visto un sacco di tempo fa servono più cannoni nessun problema lancia le palle di cannone rimbalzanti contro i distruttori con questo lanciatore amatissimo dai fan tanta roba anche per quello nuove missioni a montespago hanno messo un sacco di cose e migliorie anche per l'interfaccia utenti in poche parole ragazzi la schermata di conferma gestisci giocatore nella lobby adesso si è sistemato lo standardo che non veniva mostrato bene hanno messo che nella pagina del registro raccolta non si aggiornavano correttamente alcuni oggetti adesso è a posto è una sfilza di altre update migliorate come sempre comunque le prestazioni grafiche anche per save the world che quindi gira ancora meglio per i dispositivi un pochettino più arretrati nuovi eroi occhio di falco coda di cotone e il costruttore leggendario coniglietta penny insomma ragazzi tante tante cose per tutte le modalità di fortnite io vi ringrazio per avere guardato il video della patch notes mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale codice creator xiodarone noi ci vediamo in live ciao 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 ciao